Buonasera, è bello poter parlare di Sandro Pertini, è bello iniziare da un momento che racconta un po' un piccolo retroscena di questa puntata perché quando abbiamo iniziato a pensare a cui si fa l'Italia Pertini ci doveva essere ma a differenza di quasi tutto tutte le altre puntate di cui si fa l'Italia che avevano un momento centrale molto chiaro molto definito il momento che ha segnato un prima un dopo Pertini era un po' complicato perché come vedremo stasera di momenti ne ha vissuti davvero tanti e quindi ci siamo un po' trovati in difficoltà nell'individuare un momento abbiamo deciso di partire con con la puntata e con la serata da questa fotografia questa fotografia che come avete sentito nel podcast facciamo già il momento sondaggio posso farlo io non avrei mai chi ha sentito il podcast sulle mani uno su due direi un 55% una buona Hitmaster chi non l'ha sentito beh a contrario però vedi che chi è indeciso i conti non tornano mai quindi abbiamo deciso di partire da lì come avete sentito prima così chi l'ha sentito se l'ha rinfrescato perché è un momento che aiuta a capire delle tendenze che oggi viviamo nella politica un uomo un politico molto vicino alla gente agli italiani che parlava in un modo molto vicino agli italiani e per farvi capire questa cosa vi volevamo far vedere i momenti della finale al Bernabeu Pertini alla finale del Bernabeu il primo momento è quando lui arriva qui è quando finisce ma qui vediamo se siamo due fumatori di pipa e gli ho detto che bruci nel fornello della pipa il fornello è questo voi non siete non conoscete uno questo è il fornello deve bruciare come faccio io le sue amarezze e le sue delusioni non conoscete nulla mi piace dovete cogliere le sfumature di Pertini e fa morire da ridere veramente ci sono delle cose ma il primo momento prima del primo gol appena arriva abbiamo Reuan Carlos il primo ministro Schultz e poi c'è Pertini nell'immagine dopo se me la mandi si intravede credo qua eccolo eccolo compostissimo perfetto poi c'è il gol di Paolo Rossi ha segnato comincia a girarsi comincia a far casino in tribuna poi c'è il gol di Tardelli posso dire prima di vederlo Paolo Condò che è stato nostro ospite della puntata ha detto una cosa molto bella cioè che se mai dovessimo spedire nello spazio le dieci cose che rappresentano l'Italia una di queste dieci sarebbe quello che vediamo adesso che è il famoso 2 a 0 di Tardelli e poi c'è stata la famosa non ci prendono più non ci prendono più cioè vedete la la progressiva sbraccamento del presidente della repubblica che veramente ci immaginiamo i politici di una volta la prima repubblica e tu in televisione stai vedendo in mondo visione il presidente della repubblica italiana che di fianco al re di Spagna il primo ministro tedesco in grigio proprio perfetto statuario si gira e comincia a fargli non ci prendono più eccolo qua famosissimo insomma tanto molto diverso dal mattarella di Wembley e lì volevo arrivare anche dal napolitano sì tanto mi è venuto in mente adesso che rivedendo queste immagini mi sono ricordato che non ci qualifichiamo più ai mondiali e quindi sarà difficile è stato tutto di sconforo perché la partita col Portogallo sarebbe stata la sera della prima cui si fa l'Italia qui a circolo abbiamo organizzato infatti io pensavo di non venire e invece e invece la Macedonia ci ha salvato no lì volevo arrivare cioè la differenza con non tanto i politici di una volta i politici d'oggi però Pertini nell'immaginario è considerato il più grande presidente della storia anche per questo aspetto per questo suo essere molto popolare anticipato delle tendenze diciamo la puntata però queste tendenze queste cose oggi non sono viste così tanto bene l'essere molto colloquiale l'essere molto protagonista lo vedremo dopo in alcuni episodi lui ha anche subito delle critiche volevo capire la vostra su questa cosa sì intanto qui abbiamo un'ultimissima clip che fa vedere anche il suo lato più sanguigno nella famosa partita a carte di cui abbiamo visto prima un'istantanea il retroscena è che Zoff poi racconta che era Pertini che ha sbagliato la carta sì tra l'altro è divertente perché quando c'è stato il voto per il presidente della Repubblica a gennaio un sondaggio che abbiamo fatto per Sky poneva esattamente questa domanda cioè secondo te italiano di oggi chi è stato il più il migliore presidente della Repubblica e Sandro Pertini usciva ampiamente in testa cioè ancora oggi nell'opinione pubblica italiana è il più popolare tra tutti i presidenti della Repubblica diciamo che alcuni elementi di novità lui li ha portati alla figura della presidenza se leggete gli storici, gli studiosi, i politologi vi dicono che insomma ha interpretato il ruolo di presidente della Repubblica un po' a modo suo questa cosa non gli ha tra l'altro risparmiato critiche infatti c'è anche tutta una lettura piuttosto critica del personaggio Pertini però volevo chiedere a te anche Francesco come la vedi e come era vissuto forse anche dai politici del suo tempo questo capo dello Stato così esuberante così diciamo divertente ma anche esuberante sicuramente beh esuberante senz'altro abbiamo visto in questo emblematico scambio a carte peraltro diciamo il gioco delle carte non è la prima volta che ritorna nella vita di Pertini c'è una battuta di Nenni famosa per fortuna di Pertini soltanto tra gli studiosi di storia quando diciamo loro erano entrambi al confino Nenni studiava e Pertini giocava a carte e questo gli ha sempre un po' rimproverato diciamo una scarsa preparazione culturale per quanto poi Pertini avesse non una ma due lauree una in giurisprudenza e una in scienze sociali la cosa incredibile che a me del politico Pertini ha sempre affascinato molto è che a fronte di questa sua straordinaria esuberanza senza imporsi dei limiti istituzionali prima era stato a lungo presidente della Camera capogruppo del Partito Socialista non era il primo che passava di lì non ha mai portato però Pertini ad essere un questa sua esuberanza non ha mai portato Pertini ad essere un politico come dire del settarismo come a volte accade un carattere esuberante che lo porta ad essere il rivoluzionario senza condizioni già da giovani si iscrive al Partito Socialista Unitario quindi al partito diciamo alla scissione di destra del Partito Socialista Italiano quella di Turati e di Matteotti è contrario alla rottura con i comunisti all'ingresso del PSI nel centro-sinistra ma rimane all'interno del partito quindi questa sua indole caratteriale molto burbera non ha mai poi fatto sì che diventasse un politico così fine a se stesso e l'ultimissima cosa che volevo dire su questi mondiali che credo chiedendo a cento italiani un'immagine che si ricordano di Pertini citerebbero probabilmente queste lo diciamo anche nel podcast Pertini non era uno sprovveduto non era uno che passava di lì e che si è ritrovato al Quirinale come in certi film o non era un ex comico eletto presidente era una figura di grande spessore perché ha fatto come vedremo la prima guerra mondiale la resistenza ha fatto decine di anni in Parlamento era un politico tutt'altro che è sprovveduto che quindi sapeva che in quella fase lì poi ci arriviamo dopo in una fase molto di passaggio per l'Italia inizio anni Ottanta legare la sua immagine l'immagine di leader politico a un successo sportivo era un messaggio politico e quindi come dire non facciamoci traviare da queste immagini così pop pensando che non ci fosse dietro anche un ragionamento politico è stato molto intelligente quando arriva l'aereo presidenziale a Roma è il primo a uscire dall'aereo senza la coppa uno si immagina esce subito la coppa era pieno di giornalisti in pista lui esce senza la coppa e si defila immediatamente quindi mette la sua figura al centro ma è capace subito a toglierla però è un po' che ci giriamo attorno a queste tante vite di Pertini è il momento di iniziare a scoprirle Pertini è un personaggio gli americani direbbero a me piace da morire questa espressione larger than life più grosso ha vissuto così tante cose così tante vite che è difficile farle contenere in una sola vita sembra impossibile proviamo a iniziare questo diciamo viaggio nelle vite di Pertini Lorenzo da dove partiresti? sì partirei in realtà un po' dall'inizio di solito si parte da lì noi invece siamo partiti quasi dalla fine un po' tarantiniani seguendo però il filone del podcast la puntata comincia appunto col mondiale e poi però fa un passo indietro quindi immaginatevi di riavvolgere un po' il nastro e riavvolgerlo fino ad arrivare insomma a questi anni qui vedete Pertini insomma si intravede che è lui ma è molto diverso dal Pertini che abbiamo in mente questo è un ventenne Pertini siamo negli anni più o meno della prima guerra mondiale prima guerra mondiale a cui lui partecipa come dicevamo prima insomma viene anche proposto per una onorificenza perché aveva guidato un assalto contro gli austriaci nel 17 quindi insomma è una figura che già vive quella fase così tragica per l'Italia nonostante la vittoria diciamo nel conflitto della prima guerra mondiale ed è poi una figura che però tutti noi associamo indubbiamente alla resistenza è stato uno dei principali esponenti direi dell'antifascismo italiano e lo diventa in realtà a seguito di un momento ben preciso che è un momento che davvero segna un prima e un dopo nella nostra storia a scuola lo avrete visto lo vediamo attraverso una foto una foto di qualche anno dopo in cui c'è un altro personaggio importante della politica italiana che io immagino riconosciate al centro lo abbiamo citato prima tu volevi fare un sondaggio ma io non sono così convinto che ce l'abbiamo tutti in testa secondo me secondo me ma senti in tutte le città italiane c'è una via almeno c'è una piazza c'è un corso Matteotti a Torino per esempio e quindi insomma evidentemente Giacomo Matteotti dopo l'assassinio di Matteotti a opera dei fascisti nel 24 Sandro Pertini si convince che insomma non può più restare indifferente e si convince a diventare un antifascista più che attivo tant'è che poi lì iniziano mille avventure per questo quando abbiamo ragionato sul titolo da dare alla puntata del podcast qui si fa l'Italia e anche alla puntata di questa serata non potevamo che dargli il titolo le tante vite di Sandro Pertini perché sono davvero tante vite sono anche tanti mestieri lui a un certo punto tra mille peripezie nella seconda metà degli anni 20 a un certo punto fugge in Francia non so se vuoi inserirti tu su questo Francesco si fugge in Francia dopo un passaggio a casa Rosselli a Milano e tra i vari tra i vari lavori no a casa Rosselli dove incontra Durati Durati che era il suo diciamo lui era stato iniziato ancora prima della questione Matteotti era stato iniziato durante gli anni del ginnasio Pertini viene da una famiglia di proprietari terrieri quindi comunque per l'epoca benestante fa scuola si laurea prima ancora durante il ginnasio come molto spesso accade un professore di filosofia lo avvicina agli ambienti del socialismo lui lì si appassiona alla politica Matteotti lo porta dalla teoria alla prassi avrebbero detto i filosofi dell'epoca e si innamora del pensiero del socialismo riformista di Durati e lì e lo incontra il suo mentore diciamo a casa Rosselli e l'idea è un po' no dobbiamo scappare dobbiamo andare in Francia se no facciamo la fine di Matteo se no facciamo la fine di Matteo peraltro lì c'è anche una battuta molto interessante che lui fa in seguito da presidente in un'intervista in cui dice mi hanno sempre rimproverato che i comunisti facevano la resistenza e i socialisti scappavano però come io sono andato via e poi sono tornato Togliatti è andato a Mosca Di Vittorio è andato in esilio quindi non eravamo cioè c'era una compartecipazione di entrambi i rapporti durante la teorizzazione del social fascismo non erano semplicissimi nonostante questo lui incontra poi Gramsci Atturi e diventano molto molto intimi in Francia svolge molti lavori diversi tra cui anche la comparsa cinematografica per cui forse in qualche film d'epoca si può intravedere chissà un giorno se vi capita un giovane Sandro Pertier ma qui c'è fa l'imbianchino noi abbiamo presi due l'imbianchino a Nizza muratore sì muratore e lavava i taxi a Parigi a Nizza però non può fermarsi a non combattere come dicevi anche giustamente tu la sente un po' questa quest'onta quasi della fuga monta una torre radio per comunicare da Nizza all'Italia viene arrestato e rimpatriato in Italia rimpatriato in Italia anche qui c'è una storia pazzesca che riassumiamo in tre parole arriva a Pisa a Pisa c'è la partita Pisa-Savona lui è di Savona arriva al pullman dei tifosi di Savona succede quello che poi lui anni dopo racconta esatto in realtà una cosa che dobbiamo dire è che lui rimpatria e ritorna in Italia ma sotto falso nome sotto falso nome e fingendosi svizzero se non sbaglio il passaporto Luigi Roncaglia esatto lui si faceva passare per Luigi Roncaglia per evitare diciamo la persecuzione evidentemente fascista e poi molti anni dopo racconta esattamente quello che che accade questo no concittadino lo c'è il problema degli ultras nel calcio non l'abbiamo inventato ma soprattutto ragazzi ma uno può farsi i cavoli suoni questo concittadino lo riconosce lo denuncia e vediamo un po' circondato a falco vero poi portato in questura subito negai io dissi io sono Luigi Roncaglia questo questa canaglia di fascista dice ben dice allora al questore io chiedo il confronto tra lui e sua madre e il pensiero di trovarmi di fronte a mia madre a questa questa vecchia che pur essendo non condividendo le mie idee ero orgogliosa di me evidentemente mia madre avrebbe subito uno shock non avrebbe potuto dire non è mio figlio e allora per risparmiare questa mia madre ho detto ma sì sono Sandro Pertini eccomi pronto qui ditemi quello che volete che cosa volete da me faccio solo un piccolo inciso di nuovo le virgole di Pertini cioè il presidente della repubblica davanti a questa vecchia che non avrei mai potuto questa canaglia di fascismo cioè è il presidente della repubblica ok non c'erano i social ok non c'era il selfie questa vecchia e questa canaglia sì sicuramente molto vivido nel linguaggio no Pertini questo è uno dei suoi tratti e ovviamente lui questa vicenda di Pisa questo arresto di Pisa poi lo subisce perché insomma non è senza conseguenze e comincia comincia poi no una lunga serie di vicissitudini il confino ad esempio no che è qualcosa che oggi ci appare molto lontano nella storia ma è sostanzialmente una misura di vogliamo chiamarla di esilio a cui venivano sottoposti gli avversari politici per separarli dal resto del paese fisicamente infatti spesso inviati come vedete qua in isole o in località remote fisicamente ma anche psicologicamente moralmente e poi appunto viene spostato in realtà a Turi a Bari dove incontra e diventa amico con Antonio Gramsci con cui litigano un po' perché Gramsci ce l'ha con i socialisti riformisti e Pertini ce l'ha con i comunisti che hanno fatto la scissione di Vorno con i massimalisti questa tra l'altro è la cella di Sandro Pertini vedete un po' che impressiona che ci fa vedere pensare che chi era lì poi dopo qualche anno sarebbe stato nel palazzo del Quirinale la stessa persona come cambia ci rimane 13 anni qualcosa meno un 12 lui rimane poi in varie soluzioni molto a lungo in questo tra confino e carcere tant'è che dice una cosa che effettivamente si vede se guardate la foto da cui siamo partiti e se pensate al Pertini che conosciamo lui dice io sono entrato qualche anno dopo ovviamente ma lui dice io sono entrato in carcere con i capelli neri e ne sono uscito con i capelli grigi e possiamo immaginare insomma perché un altro piccolo quiz perché qui a Pertini succede un'altra cosa che da sola meriterebbe un podcast che racconta questo è fantastico che racconta quei giorni e il quiz per voi è secondo voi che cos'è questo documento non si legge quindi non cercate di leggere qualcosa perché tanto non si legge ma neanche da qui no no è proprio impossibile qualche idea sembra un un registro un registro un registro di un carcere tu cosa dici eh 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 bravo quasi bravo molto vicino questo è il registro di Regina Celi carcere di Roma atto di consegna dei detenuti e i primi nomi lì sopra siamo nel 1943 prima che Roma venga liberata dagli americani liberata dalla dai diciamo dalla eh dominio nazifascista dall'occupazione nazista ehm i primi nomi la sopra sapete di chi sono? di due presidenti della Repubblica di questi due signori qui esatto chi ha detto? ha vinto ha vinto ha vinto qualcosa ottimo un frullatore Sandro Pertini e Giuseppe Saragat eh due grandi esponenti del socialismo italiano poi Saragat divenne diciamo il fondatore di fatto dei socialdemocratici con la scissione di Palazzo Barberini del 47 peraltro posso dire vai io faccio soltanto interventi noiosi a fronte della è importante perché così noi sembra più pimpanti è assolutamente importante però c'è Pertini che come dicevamo prima è sempre stato comunque un uomo che ha creduto tantissimo nell'unità prima del fronte antifascista e poi delle sinistre eh è molto colpito dalla volontà di di Saragat di dar vita a un nuovo partito per quanto poi Saragat abbia sempre negato che fosse una scissione perché poi ogni scissionista rivendica di essere chiaramente il depositario della purezza dice sempre che sono gli altri che sono gli altri sì sì tu dice tanto adesso ci ritroveremo tutti sotto la nuova la nuova sigla quindi io sono solo il primo non andrà propriamente così però Nenni manda Pertini a Palazzo Barberini dove si erano riuniti i Saragattiani insomma diciamo quelli che poi daranno vita al PSLI che poi diventerà il partito socialdemocratico italiano la folla di Palazzo Barberini vede Pertini già circondato da un'aura di mitologia arrivare deduce che Pertini ha deciso di aderire al partito di Saragat quindi scoppia un'ovazione in realtà Pertini vorrebbe semplicemente far sì che quella situazione rientri e invece così non sarà però questa istantanea importante questi due padri della nostra Repubblica perché sono due figure che hanno fatto il paese democratico e libero che siamo diventati e quindi ricordiamocene questi due signori erano prigionieri di Regina Celi arrestati dai nazisti ed erano a pochi giorni verosimilmente da essere fucilati entrambi quello che accade è un altro film vedete quante cose succedono a questo signore quello che accade è un altro film perché in qualche modo un personaggio che poi ritroveremo nella storia italiana Giuliano Vassalli grande giurista è stato ministro della giustizia sarà poi la persona a cui Bettino Craxi cercherà di affidare non la trattativa ma diciamo la soluzione umanitaria la cosiddetta soluzione umanitaria per salvare la vita Aldo Molo alla quale Pertini era contrario unico all'interno del partito socialista va bene questo Giuliano Vassalli altra grande figura della resistenza socialista insieme alla moglie del medico di Regina Ceri organizza una spettacolare evasione procurandosi timbri firme fasulle con cui vengono scarcerati Sandro Pertini Giuseppe Sarra ragazzi altri cinque se non sbaglio prigionieri senza quella iniziativa due persone che sono diventati presidenti della Repubblica Italiana sarebbero stati come tristemente molti altri uccisi dai nazisti e poi di lì a poco che cosa succede che Pertini diventa una delle figure chiave della resistenza fino alla certificazione di questo che è la sua voce Lollo il 25 mila quando lui diceva l'aura di leggenda l'aura di leggenda la costruisce in dei momenti particolari nei momenti unici il 25 aprile alla radio c'è questo annuncio cittadini lavoratori sciopero generale contro l'occupazione tedesca contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre delle nostre case delle nostre officine come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire lo vedete bene in questa e nella prossima immagine i capelli grigi no? che diceva prima questa tanto sembra che sia proprio del 25 datata 25 aprile o fosse 26 del 1945 ricordiamoci che poi noi oggi e tra poco celebreremo il 25 aprile e devo dire è particolarmente bello parlare di di questi argomenti a pochi giorni da una festa che deve essere una festa di tutti gli italiani che hanno a cuore la libertà e la democrazia e il 25 aprile noi immaginiamo che si sia accesa la luce però non è che sia andata proprio così Mussolini viene catturato diversi giorni dopo c'era l'aneddoto che ci raccontavi prima del proprio del fratello no no del fratello i Pertini questo in realtà poi lo racconterà lui molti anni dopo durante la sua presidenza va in visita in Germania quindi un momento anche molto toccante lui che visita diciamo il paese che era stato il protagonista della della sua carcerazione e dell'alleanza con il fascismo tra le diciamo le tante cose che fa che fa in Germania va a visitare la tomba del fratello che il 25 aprile del 1945 perde la vita in un campo di concentramento esattamente mentre Pertini nella giornata in cui Pertini pronuncia questo discorso che abbiamo sentito poco fa e nella giornata in cui Pertini incontra per la prima e unica volta Benito Mussolini quello dell'arce che ho scovato perché accade una serie tv scritta così avremmo detto no hanno messo tra i pari questi sceneggiatori di Netflix insomma anche meno perché accade a poche ore in realtà da credo da questa foto accade che il cardinale di Milano Schuster cerca un estremo tentativo di mediazione con Mussolini all'arcivescovado di Milano in cui cerca sostanzialmente di convincere Mussolini a rendersi e provare a chiuderla così Pertini scopre che è in atto questo tentativo di mediazione che esclude i socialisti e i comunisti su una topolino si precipita all'arcivescovado si precipita all'arcivescovado e per salire all'arcivescovado c'è un grande scalone è un scalone doppio e quindi quando tu sali vedi l'altro scalone da cui si scende e lui vede con la coda dell'occhio mentre sale un gruppo di persone che non capisce bene chi siano all'inizio vede in mezzo c'è un signore piuttosto emaciato piuttosto col volto scavato ed era Benito Mussolini che stava uscendo dall'arcivescovado mentre Sandro Pertini entrava poche ore prima del 25 aprile delle parole di cui abbiamo sentito l'audio poco fa se cercate in quella cosa meravigliosa che è l'archivio di Rai Play c'è un documentario di una decina di anni fa di Paolo Mieli della grande storia sulla vita di Sandro Pertini e c'è una sua visita in tarda età credo durante il mandato presidenziale proprio all'arcivescovado in cui lui ripercorre questo scalone e racconta anche proprio plasticamente che cosa sia successo in questo momento quasi inverosimile diciamo poi della storia di Taro e siamo insomma alla liberazione alla democrazia ritrovata faticosamente riconquistata dopo la guerra siamo in realtà a un trentennio di cui nella puntata parliamo molto poco per cui essendo una parte noiosa no scherzo eccolo però l'ho portato a posto dici qualcosa sul Pertini da questo a quando diventa Presidente della Repubblica perché passano 33 anni quanto tempo avete voi hai due minuti te lo do io due minuti beh un po' di cose le abbiamo già dette prima Pertini è convintamente incredibilmente incindibilmente legato al suo partito che per lui è una ragione di vita per quanto sia una persona incredibilmente laica quindi ha un legame molto diverso da quello che come dicevamo nella prima nella primo incontro avevano invece i comunisti con il loro partito molto più simile forse aveva un rapporto da un fedele e una chiesa Pertini ininterrottamente parlamentare prima del PSIUP come si chiamava nel 46 poi del fronte popolare peraltro le elezioni del 48 che segnano la grande vittoria della democrazia cristiana per i socialisti sono una doppia sconfitta intanto perché la lista del fronte popolare va male poi perché in quel modo diciamo si iniziano diciamo a non avere più diciamo quel rapporto di comune intesa i due partiti e poi perché andando a contare gli eletti i comunisti erano stati un po' più bravi dei socialisti e quindi i socialisti in Parlamento erano pochi nonostante tutto questo Pertini rimane convintamente dalla parte dell'unità della sinistra continuerà a battersi per la non interruzione dei rapporti con i comunisti negli anni successivi pronuncia oggi ci sembra incredibile che quest'uomo così legato all'immagine dell'Italia democratica pronunciasse discorsi del genere ma negli anni 50 accadeva quando nel 53 muore Iosef Stalin non soltanto il partito comunista ma anche il partito socialista che all'epoca era parimenti legato e finanziato dall'URSS Pertini pronuncia parole di commemorazione commosso per la morte del grande leader sovietico nel 49 aveva già espresso una vehemente contrarietà all'ingresso dell'Italia nella Nato rimarrà comunque sempre all'interno all'interno del suo partito questo lo porterà ad essere poi eletto presidente del gruppo parlamentare poi della Camera e poi di arrivare al Colle gli era sempre stato rimproverato di non essere un grande teorico della politica un esponente della sinistra socialista come Riccardo Lombardi sembra che abbia coniato diciamo questa espressione povero Sandro cuor di leone e cervello di gallina non male abbiamo fatto il prezzo adesso cervello di leone e cuor di gallina non so se al contrario non so se ci guadagni ma speaking about lions parlando di leone adesso ci arriviamo però Lollo c'è una frase che abbiamo raccolto perché lui la la dice Auriana Fallaci in una famosa intervista e poi torneremo un po' su questo concetto ma lui lega sempre il suo impegno politico al momento della resistenza quasi che quello fosse stato il momento più alto non solo per lui ma in generale per la classe politica italiana sì questa frase la dice a fine carriera quindi c'è anche un po' questa nota amara a noi ha colpito molto perché fotografa un momento e una classe politica intera no si parla di prima repubblica la fine della prima repubblica i politici della prima repubblica beh in realtà è una frase piuttosto amara se se la leggiamo perché fotografa un punto dove qualunque cosa abbiamo fatto da lì in poi comunque quello è stato il nostro momento più alto di carriera politica detto da uno che viene eletto presidente della repubblica la più alta carica dello stato sì e tra l'altro è interessante perché effettivamente come vedremo tra un attimo lui nella sua presidenza vive tantissime cose perché già insomma aveva avuto una primi 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 80 anni di vita tranquilli niente male quindi a 82 anni dice ma sì dai facciamo anche non è non è un settennato semplice non è un settennato semplice quello che però volevo dire è che in un certo senso il suo settennato coincide un po' con l'inizio della fine del sistema dei partiti e della prima repubblica lui diventa lo vediamo tra un attimo presidente due mesi dopo l'omicidio Moro e come ci dice Marco Damilano nella puntata sul caso Moro il funerale di Moro sembra anche essere il funerale dei partiti e della repubblica dei partiti quindi lui diventa presidente dopo che Leone si dimette vedete qui è interessante perché la decisione fatto nuovo nella storia della repubblica le dimissioni di un presidente della repubblica era la prima volta che succedeva siamo nel 78 non si dimette per il caso Moro ovviamente si dimette per uno scandalo di tangenti su armi armamenti lo scandalo Lockheed quindi ingiustamente attaccato la presidenza di Sandro Pertini inizia in un momento parecchio complicato dopo 16 scrutini si arriva al nome di Pertini al sedicesimo scrutinio proposto da Bettino Craxi quando ormai tutti i candidati della democrazia cristiana che voleva a tutti i costi imporre un suo nome sono bruciati Bettino Craxi propone Sandro Pertini lui si affretta nel transatlantico a dire no assolutamente no io non voglio farlo e diventa il presidente più eletto con più voti più votato trato questa cosa che se dici che non vuoi fare il presidente repubblicano chi elettono presidente repubblica diciamo che si sta consolidando quindi nel caso ve lo chiedessero no dite di no ci portano delle tendenze l'abbiamo detto voi dite di no e qui abbiamo un signore che è Pietro Ingrao che già anche lui anzianissimo incredibile comunque il risultato della votazione presenti e votanti 995 maggioranza assoluta 506 hanno ottenuto voti Bertini 832 votato sostanzialmente da tutti da tutti i partiti diciamo dell'arco costituzionale qui la prima pagina dell'unità interessante anche in questo rapporto comunisti socialisti sale al Quirinale un'eminente personalità del movimento operaio no qui sotto combattente antifascista la dichiarazione di Bellinguer quindi c'era anche una sorta di non so come dire vicinanza tra quei due mondi no? peraltro come dicevamo prima c'era stata già l'esperienza della presidenza Saragat di presidente legato alla resistenza all'antifascismo Saragat che ovviamente era stato votato dal partito comunista quando fu eletto però il legame che c'era tra il partito comunista italiano e Pertini per quanto diversissimi nell'approccio antropologico alla politica difficilmente nella cifra sì nella cifra antropologica alla politica forse da un punto di vista strettamente di passione il più simile a lui era proprio Ingrao per come parlava per il tono della voce che usava anche per la gestualità che utilizzavano il suo rapporto però con Enrico Berlinguer poi fu incredibile sì lo vediamo tra poco ma prima di arrivare a Berlinguer dicevamo un settennato complicato non tanto per lui in quanto persona ma un settennato complicato per l'Italia e in particolare c'è un anno terribile che è il 1980 2 agosto la strage di Bologna la strage della stazione di Bologna e la strage che chiude di fatto gli anni di piombo ma è anche quella che fa più vittime più feriti quella che colpisce di più l'opinione pubblica sì è la strage più sanguinosa della storia della Repubblica Italiana del terrorismo italiano colpisce vederla così cioè con l'immagine che a tutt'oggi si ha in piazza delle medaglie d'oro andando a prendere il treno e pensare che tutta quella alla sinistra fosse stata devastata dall'esplosione veramente fa male fa male pensarlo e Pertini va sì dicevamo prima del protagonismo di Pertini Pertini va subito si reca subito con ancora le macerie per terra con i soccorsi ancora nel vivo si allestisce una piccola terapia intensiva nella sala d'aspetto in una delle sale d'aspetto della stazione e lui da questo momento comincia veramente ad entrare nelle case nei cuori degli italiani queste sono le parole che pronuncia o che non pronuncia o che non pronuncia non ci sono parole che possano esprimere lo stato d'animale voi lo immaginate ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione due stanno morendo ormai una bambina o bambina da cosa sta razionando lui eserisce addirittura prima di questa clip dicendo cosa vuole che le dica al cronista che gli chiedeva implicitamente un commento e sono anni complicati diciamo anche per altre vicende che tratteggiano la sua punteggione la sua presidenza nel 1981 devastante terremoto in Irpinia per esempio e anche qui vediamo che cosa titolo famosissimo fate presto che poi è stato ripreso in altri momenti del giornalismo italiano il titolo del mattino vediamo un pertini che testimonia la presenza dello Stato sul luogo e in questo testimonia anche nella puntata del podcast per chi l'ha sentita lo si scorge molto testimonia anche un'indignazione per poi la gestione del post terremoto e per la gestione di un altro diciamo evento di un altro cataclisma che si era avuto nel Belice in precedenza quindi è parlando quasi da non politico parlando quasi da antipolitico che è con toni veramente molto forti e poi Lollo l'81 è anche l'anno di un'altra vicenda che ha colpito molto l'immaginario no? Sì per cui lui qui si è tirato molte critiche qui siamo al salvataggio o al mancato salvataggio di Alfredino Rampi lui arriva con tutta la macchina presidenziale e alcuni insinuano che questo carrozzone diciamo così abbia ostacolato i soccorsi di questo lui rimane molto ferito questa immagine in particolare però è bellissima sembra un quadro quasi gravaggesco tutti concentrati tutte le linee portano supertini è importante però che ci sia stato il presidente di nuovo il presidente che dimostra la vicinanza agli italiani all'Italia quindi una politica che abbatte i confini sì l'episodio immagino lo conosciate ma l'antefatto è questo ragazzino che cade in un pozzo con lunghi tentativi di salvarlo che poi non vanno a buon fine e una mobilitazione mediatica senza precedenti in cui si inserisce poi anche a suo modo Pertini e qui abbiamo citato già solo tre momenti variamente tragici di quell'anno e mezzo senza dimenticarci di una cosa che siamo a un anno dal mondiale di Spagna noi abbiamo l'idea di un Pertini festoso abbiamo l'idea degli anni felici per chi li ha vissuti e per chi ormai non li ha vissuti ma pensa che fossero anni felici e basta però pensate che nell'82 viene ucciso Pio la torre a pochi mesi dal 11 luglio 82 mi pare quando l'Italia vince il mondiale con Pertini in tribuna viene ucciso il generale Carlo Alberto dalla chiesa a Palermo dalla mafia insomma è una stagione molto delicata in cui sembrano chiudersi gli anni di piombo e in cui però insomma si aprono altre tensioni altre fratture quello che prima diceva Lorenzo no? è un politico di lungo corso molto intelligente la presenza a quei mondiali era importante per tutta questa serie di eventi probabilmente tanto è che poi un giornalista gli chiede ma c'è chi fa polemica lei che è venuto qui a vedere la partita con tutti i problemi che ci sono e lui dà una risposta bellissima che nel podcast magari vi ricordate e lui dice ma insomma chi lavora sei giorni avrà diritto la domenica a riposarsi andare al mare in montagna e allora oggi è domenica per noi e poi penseremo a lunedì insomma con anche un tratto molto umano molto bello e arriviamo al 1984 questo è l'ultimo tratto della vita di Sandro Pertini che vi raccontiamo che si intreccia con la vita di un altro grande protagonista della nostra storia politica a cui abbiamo dedicato un'altra puntata del podcast e diciamo non riusciamo a fare un live per ogni puntata quindi l'invito è ascoltatela se volete di cui peraltro ricorre il centenario ricorre il centenario della nascita parliamo ovviamente di Enrico Berlinguer e forse nessuna immagine è più nota di questa istantanea con Pertini che quasi chino sulla barra di Enrico Berlinguer nella puntata su Berlinguer raccontiamo molto molto di più di quello che è successo del legame che c'era tra i due di Pertini che lo va a trovare e di fatto Berlinguer muore mentre Pertini è lì e Pertini dice no io voglio portarmelo via non lo lascio qua Francesco che conosci molto bene la storia del partito comunista e anche dei rapporti cosa ci dice questa immagine al di là dell'istantanea che è storia che rapporto c'era tra i due erano avversari erano amici il rapporto tra i due si inserisce in un momento di difficilissimi rapporti tra i due partiti la segreteria Craxi aveva sostanzialmente interrotto una qualsivoglia possibilità di collaborazione Walter Veltroni dice una cosa molto giusta nella puntata su Berlingueri il rapporto tra socialisti e comunisti è sempre stata una conversazione continuamente interrotta quando i socialisti volevano l'alternativa i comunisti volevano il compromesso storico quando i comunisti dopo il 79 dopo il 78 hanno immaginato l'alternativa democratica i socialisti sono tornati alleati della democrazia cristiana e c'è stato il pentapartito Pertini in tutto questo è sempre stato Pertini non è mai stato il Pertini del socialismo di Craxi o dell'antisocialismo interno al PSI aveva un rapporto con Berlinguer quasi fraterno lo dice lui quando dichiara lo porto via come un compagno di lotta lo dice anche Berlinguer in una in una intervista in vita lo considerava come uno dei politici a lui più vicini probabilmente si sentivano vicini anche più di quanto non si sentissero vicini ad altri dei loro rispettivi partiti qui Pertini volle tributare a Berlinguer gli onori di un funerale di stato di fatto poi peraltro c'è a proposito dei rapporti idroi socialisti chiudo con una battuta Craxi e Martelli incolpano per ti incolpano ragionando con Pertini sui risultati dell'europeo dell'84 immediatamente successive alla tragica morte di Berlinguer in cui per la prima ed unica volta il partito comunista è primo partito in Italia cosa comunque non banale in un paese occidentale per quanto negli anni 80 eravamo ancora diciamo all'interno del mondo dei blocchi gli dicono il PC ha guadagnato voti per due ragioni la prima è che Berlinguer è morto la seconda è che tu gli hai fatto fare un funerale di quel tipo e lui gli risponde facciamo una cosa voi andate a Verona morite sotto il balcone di Giulietta io vi riporto qua vediamo quanti voti prende il PSI e abbiamo delle immagini che in realtà nella puntata su Pertini cioè le immagini qui abbiamo immagini nella puntata su Pertini non trovate l'audio se non un brevissimo estratto delle immagini che stiamo per vedere che trovate però nella puntata su Enrico Berlinguer e devo dire io io non appartengo a quella tradizione politica e non c'ero in quel momento ovviamente non è neanche nato tra l'altro nessuno di noi però quando vedo queste immagini ogni volta devo dire che mi colpiscono perché ci danno un'idea di che cosa è stata la politica in Italia in un certo momento e di cosa ha rappresentato la figura di Enrico Berlinguer per il suo popolo e quindi abbiamo pensato di contestualizzare questa foto nei funerali di Enrico Berlinguer di Piazza San Giovanni giugno 1984 e quindi vediamo qualche momento di quella di quella come dire di quella giornata che rappresentava il saluto a Berlinguer e anche un po' la fine di quel partito in un certo senso una folla ecco vedete Pertini accanto è Presidente della Camera del Senato Iotti e Cossiga è Presidente del Consiglio Craxi e altri uomini politici che saluta l'ingresso di Berlinguer mentre le note dell'inno del Partito Comunista Bandiera Rossa salutano l'ingresso del leader scomparso e migliaia di persone scandiscono l'inno con il pugno chiuso e poi c'è un momento a pochi istanti da questo che già devo dire fa una certa impressione questo penso sia veramente il momento che stiamo per vedere dalla cifra di quello che era però in quel momento e di quello che è stato perché comunque siamo alla fine del suo settennato siamo alla fine della sua carriera politica e molto anziano quello che è stato Sandro Pertini per gli italiani al di là di comunisti socialisti democristiani questa è Nilde Jotti evidentemente che a un certo punto dice a nome dei comunisti a nome di tutti voi che siete qui presenti voglio dire dal profondo del cuore grazie presidente Pertini e questa è la fotografia da cui siamo partiti noi concludiamo leggendo qualche riga che chiude la puntata e poi ovviamente e poi ovviamente vi insomma aspettiamo le vostre domande i vostri le vostre curiosità i vostri commenti si dice che il punto più alto della carriera politica di chiunque sia stato partigiano sia la resistenza forse anche per Pertini che ha vissuto tante vite ed è stato presidente della Repubblica è stato così quel che è certo è che Sandro Pertini giornalista avvocato socialista muratore carcerato partigiano presidente ha vissuto così tante vite che non possiamo pensare a lui solo come al presidente del mondial al signore con la pipa che gioca a carte con la coppa del mondo sul tavolino dell'aereo è stato anche questo un pezzo di cultura popolare un politico diverso da tutti gli altri che ha portato nuovi linguaggi nuove immagini un modo nuovo per i cittadini di guardare alla politica ma dobbiamo pensare a lui anche come la figura autorevole a cui la nazione deve in non piccola parte la tenuta morale di fronte all'onda d'urto del terrorismo per usare le parole del suo successore Carlo Azzeglio Ciampi dobbiamo pensare a Sandro Pertini come qualcuno che ha scelto di dedicare la sua vita alla politica cioè al vivere insieme perché voleva che l'Italia fosse un posto un po' più libero e un po' più giusto battetevi sempre per la libertà per la pace per la giustizia sociale la libertà senza giustizia sociale non è che è una conquista fragile bisogna che la libertà sia unita la giustizia sociale sono un binomio inscindibile lottate quindi con fermezza giovani che mi ascoltate io finché vita sarà in me starò al vostro pianto nelle vostre lotte io vorrei che voi teneste presente un ammonimento di un pensatore francese io combatto la tua idea che è contraria alla mia ma sono pronta a battermi si maldrezza della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre grazie